E salve a tutti youtubers e benvenuti in questo nuovo video qui Gav Channel e oggi siamo tornati in questo nuovo episodio di Call of Duty Sono giapponese Sono giapponese Sono giapponese Come sto dicendo siamo tornati in un nuovo episodio di Call of Duty Advanced Warfare Allora ragazzi lo so che adesso c'è l'attività del fumetto animato Però ho deciso di non abbandonare completamente il gaming Ci saranno ancora delle serie di Minecraft Delle serie con i Wampoke Però questo è un altro discorso Oggi siamo insieme a Frank89 Ok ragazzi Per chi non lo conosca basta che andate sul primo video che abbiamo fatto Che si chiama IntroGov Channel E di cui lui è il protagonista Ok ragazzi oggi siamo in una partita locale Non faremo online come altre volte Ma comunque faremo appunto partita locale Io e lui contro altri miliardi e miliardi di nemici Allora Perfetto ci diamo la mappa Detroit Va bene va bene Soldati diciamo 8 nemici io farei 9 Livello, soldato, esperto, veterano Fai soldato Soldato perfetto Prima ci siamo un po' allinati perché questa è la sua prima volta che lui gioca a Advanced Warfare E tanto lui troppo costruiva la Black Ops 3 quindi Vabbè Modalità Standard, bonus Cosa facciamo? Standard dai Che cosa? Let match? Let match squadre Perfetto Quindi va bene Ok dai iniziamo Ok avvia partita Avvia partita ragazzi sta per partire la partita La partita IVA La partita IVA Ok ragazzi è inizita la partita Adesso godetevi Io non sono molto bravo È la seconda volta che gioco Ho iniziato oggi Allora prima mi hanno giocato contro i Contro I nemici sempre 9 Però erano Erano Muorti Erano di livello Ecco Erano di livello Eccolo già per sé Quindi è più facile Io vincito di solito Gioco sempre soldato Perché Comunque non sono molto forte Però questa mappa io la conosco Non so dove è il punto in questione Tutti Allora Quindi qualche parola Ci devi accanto La torre Porta che roba Che va a proiettino Non è facile Si caccia un po' No orca Orca maurca Oh ma se ci camperiamo in un angolo Dick Chopin La maurca Muori Dai guardi qua che già è già Da Rai con facoltà Tu cambia una biazza Sto qua mi vede lontano 10 km Oh muori Oh Ti ho vendicato Grande Ci sembrava ammazzato comunque Allora Da dietro Oh no dai che pare Si cazzo di laser Morca Dopo ce li prendiamo anche noi Dai Anche se non sarà facile Dai 5 Sono delle armi che sta forti Almeno credo Con la mia conoscenza Guarda Sto fanno il seganino Io non sono abituato A questo gioco Perché di solito Facevo di tutto di più Negli altri Ma perché Morca O qua ci sono ammazzato tipo Di bip Di bip Di bip Di bip Sì ma è che gli spai Oggi non è che devi farti un caricatore E mezzo Ma no Ma no Mi hanno ammazzato Ma comunque Iniziamo a utilizzare gli scudi anche noi Dai Cosmi Cosa c'è Cosmi Cosmi C'è tre cosmi Cosmi Ecco infatti cosmi Mi ci mancherebbe Ma dai che palle Ci mancherebbe Che mi mangiasse cosmi C'è qualcosa Peggiore della palla Ma ma di palla cosmi Non lo so più Cura ammazzato In condizione C'è 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 Hanno ammazzato in due Cavolo Non sapere dove cavolo sono Una roba pazzesca Comunque adesso stiamo recuperando Più o meno Guarda Ho gufato Io ho gufato Io so solo gufare Comunque mi servirà un'arma Cioè diciamo Più potente C'è un'altra roba pazzesca Che palla Come ci siamo 11 Tu sei Io 5 piuttosto Vabbè comunque Ci stiamo ancora perdendo Sarà una partita molto difficile Ma almeno sei minuti qualcosa C'è un qualcuno dietro Come un baudo Allontanandoci e muore C'è un'altra roba pazzesca Ma come fanno Come fanno Ammazzato Come fanno Ammazzato così C'è Non so Dove vedi E io neanche No Qua dietro Sti laser Da dietro Mortacci C'è un'altra roba pazzesca C'è anche un'altra roba Di spavolare Già un'altra roba Non c'è un'altra roba Su Fu Ah C'è un'altra roba Caffè Vabbè Caffè Patatine Gelato Ammazzato Mi hanno ammazzato Mi hanno ammazzato Mi hanno ammazzato L'abbè C'è un cattore Perché io A big morning Daga 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 Ci C'è C'è l'impossibile io li farò a caso, li ammazzo prima o poi li ammazzerò tutti sto qua cosa ha fatto? la scivolata si no si può fare anche la scivolata eh io mi spero un po' lì io sto qua la fermata dell'auto oddio hanno mozzato una granata muori l'affantarò in sé io sto qua camperato sono la fermata dell'auto cosa so sti cosi volanti il tuo scherzo dell'auto sai Frank ma Frank ma muori ah no papi ha detto Cosme non è arrivato c'è il coltellino di come l'arma secondaria ma è il tuo Amhawk io c'ho la pistola strana dai mi ha ammazzato a me ma stanca è per fortuna così almeno l'ho ucciso comunque la pistola che c'è secondaria fa schifo veramente comunque è brutto quella roba lì si possono mettere al massimo 14 oggetti perché comunque non c'è uno di solito in guerra non ci va solo 10 o 14 così comunque chiede ammazzare tutti eh sì quali stanno perdendo ragazzi che stanno qua mi sa che c'era una partita molto dura questa stanza ma si che stai facendo più che il turno è dai ma che fare lo chiede io mi spiace ma so di essere troppo genio tu poi arriva in corsa e tu ti ripeto perché sei ammazzato le persone tu non survived la biglia è natata da psicopatico sto ventro qua non sa con can hooo lui deve morire male muoiti cazzo di spedette dijele cos the oli oh no 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 cazz piuzzacci o merkel 2 2 entri no dai eh si è riuscivato tutto il canzo eh ma vai a morire ammazzato e io l'ho ammazzato da dietro davanti il capiter in gelton 3 ne ho ammazzati 3 di fila 3 di fila 3 di fila e sto bottino con il volo ma vai quando è che muore questo robottino tanto per chiedere mi hanno ammazzato mi stanno ammazzando ecco quel robottino mi era da mentora che mi seguiva si no sono quello che mi vede tutte le accisioni io finisco mi dispiace ma ti riesco a superare il primo gioco ho fatto per la seconda volta e soprattutto in internet tagliamo il pezzo di intervento il pezzo di intervento basta vuoi tuoi risparcato o uccidere quel stato una grande situazione non ho fatto un posto anche un altro caccia il motel i tuoi tuoi per cento per cento 8.5 il campo morito io sto a casa con il mercato tutto tutto scudo con un'altra non c'è davvero scudo cliccando quello lì questo qua ma io non ce l'ho come l'ho? l'hai appena attivato guarda me guarda mia guarda non mi ammazzo guarda eh no scherzavo mi ha fatto lui la soft rice non lo scherzavo anche qua anche sto qua ne mori quando sono in due non li sopporto poi quando soprattutto quando c'è uno scudo qua che ti vengono vicino tipo 20 carico 20 carico e si premeo ma ce la c'è certo morto 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 2 modello posto io ho supporto.it posso tirare il testo la tua mamma è bravissima baudo è bravo baudo sa cucinare sulle quattro dai tua cacca che baudo sa cucinare i quattro sa cucinare i quattro baudo a scuola comunque da me è tutto il video che ho lo scherzo controllo davanti alla faccia perchè è alto cioè oggi gioco un po' giro sennò non riesco a giocarci col caricatore DA COSA un proiettile un proiettile mi ha sparato e sono morto cassini cambio come si può dire cambia i baggiamend io mi prenderei io non vado a cercare la nonna dai io me la cerco io mi lascio con te sei bilanciato io che ne so corri e spara dai tua mamma l'abbiamo perso si l'abbiamo perso l'abbiamo perso cosa si dai comunque si sta una partita molto combattuta voglio vedere chi è arrivato il primo tra le due e tu beh no per me si è arrivato a te perchè all'ultimo non ho fatto più niente di 16 uccisioni hai fatto 36 primo 37 uccisioni 32 morti 2 assist 20 tu 21 uccisioni 36 morti e 3 assist ragazzi questo è una roba da passi ho vinto ok ragazzi questo episodio è terminato spero che vi sia piaciuto come in generale i gameplay non verranno mai abbandonati perchè comunque fanno parte del nostro canale e spero che vi sia piaciuto fatemelo sapere con un commento mi piace eee al prossimo video ciao ciao